Fa piacere perché Chiara è mia sorella, è una grande collaboratrice di lavoro e siamo felici comunque di essere sempre associati. Il vostro percorso insieme è un percorso di grandissimo successo indiscutibilmente, quindi penso che ne avrai un buon concetto. Però adesso tu ti sei data questa sfida, un percorso da sola, tra l'altro Alone è proprio il titolo del tuo singolo. Come mai nasce questa esigenza per te? Nasce perché noi nasciamo come sorelle, poi tu hai anche una sorella, quindi forse puoi anche capire. Noi abbiamo avuto un rapporto lavorativo simbiotico direi per 12 anni, anzi senza contare gli anni di gavetta precedenti, fatti comunque insieme. Quindi è un percorso lungo, un percorso in cui spesso i nostri gusti hanno coinciso ma a volte anche no. E abbiamo dovuto in qualche modo trovare dei compromessi sempre per riuscire ad incastrare le nostre due personalità che pure sono concordanti su alcune cose ma discordanti e differenti per ovvi motivi. Però lo avete anche sempre comunicato all'esterno perché siete un duo, siete stati, un duo che si presentava esteticamente in modo distonico. Cioè non due varianti dello stesso vestito, due look completamente. Sì, inizialmente nel nostro percorso ci vestivamo uguali, poi piano piano ci siamo distaccate e abbiamo cercato di dare dei segnali di diversità. Però ovviamente quando lavori con un partner così a stretto contatto la gente tende molto a mischiare le personalità. Quindi per noi è sempre stato un po' difficoltoso far passare le nostre cose proprio personali, le nostre inclinazioni personali. E quindi Chiara per prima nel 2007 è uscita con un progetto suo da sola, un progetto singolo che è andato anche molto bene. E poi pensavo che fosse anche giunto il momento per me, che sono anche la minore tra le due, la minore di età e quindi che magari è arrivata un po' dopo anche alcune cose, che fosse arrivato anche il momento della mia sfida personale. Per me è proprio stato un modo anche per provare a me stessa che cosa hanno voluto anche significare questi 12 anni insieme e che cosa Paola ha imparato da sola. Che cosa ha imparato? Beh, ho imparato anche soffrendo a fidarmi di più di me stessa, ad amarmi di più, che è una cosa che purtroppo si impara sempre un po', a volte non si impara mai, no? Ci sono delle persone che tutta la vita amano soffrire, amano stare sotto in qualche modo. Essere problematici. Essere problematici, essere dominati da altre persone o da passioni o da vizi. Diciamo che io ho fatto una... ho recitato, tra virgolette, involontariamente una parte simile, cioè di una persona che non si amava moltissimo per un certo periodo di tempo e dopo però mi sono stancata. Beh, non è più l'immagine comunque che tu hai dato in questi ultimi anni di sicuro, certamente. No, certe volte certe cose non passano perché non possono passare, no? Lo dico perché un cantante ha due veicoli essenzialmente per farsi conoscere. Siccome non sempre può parlare, come canta e come appare? Allora il canto è evidentemente insieme, tra l'altro due voci pari, con tua sorella, quindi è difficile cogliere la diversità, ma la tua comunicazione visiva era una comunicazione scolpita, vorrei dire. Sì, ma faceva parte sempre di un atteggiamento che avevo nei miei confronti, che non era un atteggiamento di comprensione totale di quello che ero. Infatti molte persone diciamo, ma tu sei una persona così solare, così allegra. E ho sempre fatto molta fatica io a comunicare esteriormente tutta la gamma di sentimenti che provavo. Ma dicendo che questa tua tappa artistica così importante in realtà nasce e motiva e si motiva da un passaggio di vita, da un... Importante, sì, da un importante passaggio di vita che volevo che fosse impresso in qualche modo anche nella musica. Avevo scritto questa canzone che inizialmente non volevo pubblicare, non era una mia esigenza quella di pubblicarla, l'ho scritta fine 2006. Vabbè? E' stato un momento molto difficile nella mia vita perché si sono verificati una serie di cambiamenti tutti insieme, una storia sentimentale che nonostante fossero passati cinque anni non riuscivo a trovare una soluzione, non riuscivo a trovare né una soluzione positiva né una soluzione di fine totale, negativa. Ero proprio in balia di me stessa, di quello che provavo, non sapevo che cosa volessi esattamente, non sapevo se volevo continuare a fare questo lavoro perché c'erano poi dei momenti di grande conflitto nei confronti di questo mestiere e non mi trovavo, non sapevo dove fossi e dove volessi andare. Passaggio complicato.